Secondo gli antichi Maya, la fine dei tempi è vicina. Il 21 dicembre 2012 è l'ultimo giorno del loro calendario di 5.000 anni. Il mondo che noi esseri umani conosciamo da millenni sta per finire. Il Sole, nel sostizio di dicembre, si allineerà con ciò che gli astronomi chiamano Equatore Galattico. Ma che cosa dovrebbe accadere esattamente secondo i Maya? La luna si coprirà di sangue e gli alberi si seccheranno. E che cosa significa per noi oggi? Sarà un tempo di morte. La gente dovrebbe cominciare ad accettare l'idea che vedrà la morte in faccia. Ci saranno eventi che sconvolgeranno il globo e la gente deve prepararsi. Non è una paura irrazionale, è una minaccia reale. Grazie a tutti.